Salve a tutti amici e benvenuti con questo nuovo video, io sono Salopimpos e oggi siamo ad un nuovo sparatutto incentrato sugli zombie, ovvero Killshot Virus Un gioco veramente fighissimo in cui guardate quello che succede ragazzi, una città infestata di zombie come piacciono a me Perfetto andiamo, andiamo subito a massacrare qualche testa di zombie Tieni il tuo dispositivo in questo modo, meglio di così tizio come lo dovete ne? Tocchio in qualsiasi punto per continuare, ok, toccato Ragazzi dove siete? A chi ti riferisci? Alex è ancora viva? Questa sigla è una sorpresa, concentratevi ragazzi, è ora di fare pulizia Avanti facciamo un po' di pulizia, va, datemi la scopa No, no, anzi meglio questa Tieni premuto per sparare, ok, 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 sfiora per mirare, ok, fatto Questo è uno zombie, ah che t'ammazzo zombie maledetto, vieni qua piccolino, vieni qua e ti spacco la testa Iii, ah ma che mi avete dato il fucile giocattolo, quasi non fa niente sto coso Iii, ammazzalo, 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 bravo, bravo, aspetta, aspetta Oh, carica tizio, vedi che sta morendo, sta andando al tuo amico Che fa? Piovono zombie, piovono Ragazzi piovono zombie, oh, chi è? Io sono sparato sto colpo, te l'ho preso Splash! Oh, così si fanno le cose, così Ragazzi sono sicuro che questo me lo censureranno pure Libera l'aria, continua ad avanzare verso il municipio, ok, andiamo Sbrigatevi ragazzi, dobbiamo fare alla svelta, aspetta Greg, dobbiamo restare uniti Aspetta Greg, aspetta che faccia esplorere il mondo Greg, aspetta, non avere fretta Greg Ah va, non fare come il tuo solito che fammi ammazzare qualche zombo prima Via di zombo, via di colpo alla testa, via che sono, sono mitranato Vieni qua, vieni qua zombo, vieni qua zombo Dove sta andando zombo, dove sta andando, vattene a lavare i piatti in cucina Vai, che così, guardate qua, guardate così, vai nel collo sta Nel collo, perché ti sei scosciato? Ragazzi ho scosciato uno zombie Ricompense 15 di banconote 117 ban... in totale 152 banconote Andiamo, andiamo, una stella in moneta d'alto Bastardacci Ok, ricompense, tocca qui, gioca Forza, andiamo, va, quanto pare I colpi alla testa provocano danni extra E immagino di sì, forse, adesso facciamo colpi alla testa come se non ci fossero domani Via di colpa alla testa, via di colpa Oh, tizio, prendi la mira, tizio Tizio, prendi la mira, perché qua Gli zombie sono, lasciate vicini, ragazzi Ci sono altri di quei bastardi, ci penso io, ci penso Vieni qua, vieni qua, zombo Dove credi di andare sto di me, zombo Oh, carica, tizio Tizio, carica, è qui Oh, ma ti pa... oh, oh, qua si sta... oh, ma non è che mi ha dato una bomba Da queste parti, no, vero Amico, amico, difendimi, amico, qua stanno arrivando Amico, ti difendo io, ti difendo io, amico Spara, tizio, spara, tizio, spara Tizio, spara veloce E questi stanno avanzando troppo rapidamente Oh, guardate qui Così si fanno le cose Ragazzi, un altro video censurato, perché? Non posso credere che abbiano preso Greg Erano in troppi e la nostra potenza di fuoco non era sufficiente E se mi ha dato qualche arma più potente Magari, forse, riusciremo a fare qualcosa di meglio Prossima missione Arma richiesto, fucile d'assalto con 20 dimensioni caricatore Devi migliorare la tua arma per provare questa missione E miglioriamo, dai Basta che me le fate gratis le cose Oh no, devo pagare 5 lingotti, ti pareva Ti pareva se le cose me le danno grazie Dobbiamo migliorare anche le armi, fighissimo Ok, fatto Torniamo alle missioni Che adesso vi spacco 4 teste Andiamo, cari zombini miei Fai in modo che Greg non sia morto in vano Continua a cercare Alex Cerchiamo Alex, va Siamo ancora circondati Via libera Via Perché piovono i zombie? Vieni qua, zombino Vieni qua piccolino Vieni Eh, infatti ammazzo Oh, vieni Aspetta, ti copro io Ti copro io Aspetta, deve caricare il tizio però Ti copro io Ti copro io Ti copro io Oh ma perché? Ah va Lasciate il mio amico Lasciate il mio amico Lascia il mio amico Vieni qua che ti faccia esplodere Vieni qua Dove stai andando tu Ma perché ti stai fermo? Allontanati Cioè, vedi lo zombie contro Cioè, vedi lo zombie vicino a te Allontanati Sei pure femmina Sei Non l'avevo visto Vieni qua piccola Vieni qua Vieni qua Ti ammazzo Colpa alla testa Colpa alla testa Via di colpa alla testa Via di colpa alla testa Ok Trasciniamo per guardare la visuale Via Guardate qui Guardate qui Come lo colpisco Via Splash Nella spalla l'ho preso Nella spalla E questo è più difficile però Rispetto a tutti i vari Shooter che ho giocato Cioè, prendere la mira È un po' più complicato Secondo me Ok Ci siamo quasi Facciamo fuori gli ultimi zombie Avanti dai Che adesso vi faccio esplodere Via Dove siete? Dove siete? Che siamo alla barricata Via Colpa alla testa Colpa alla testa Amico mio Con chi credi di avere a che fare Ok Facciamo esplodere un po' di zombie Così tanto per ridere un po' E ora Oh Dove stai andando? Greg è diventato uno di loro Come? Greg Bastardo Greg Che cacchio fai? Greg Greg mi tradisci così Via Esplodi Esplodi qua Esplodi Greg Greg muori Greg Peggio per te Ti sei schierato Dalla parte del nemico Peggio per te Greg Non è che È colpa mia Fantastico Perché sei un po' una stella? Continuo Va Continuo Aumento di livello Livello 2 Irruzione sbloccata E ripristinata E 3 di oro Riscatta ricompense Ok Quindi Prostima missione Irruzione Completa la missione con la salute al massimo E 4 uccisioni Tramite esplosivo Ok Irruzione Ricompense Vincita missione 28 banconote Ma dobbiamo Potenziarci sto coso Ti serve un fucile a pompa Per completare le missioni Irruzione Però ti presterò il mio Ma poi lo rivolgo indietro Vabbè Semmai ritornerò vivo Alex è in pericolo Vai là dentro e salvala Avanti Alex Vieni qua Alex Avanti Spascio tutto Spascio Avanti dai Rompi qua Rompi il mondo Colpo Colpo su tutto Vieni qua Vieni qua Con chi credi di avere a che fare Guardate qui sono potentissimo con le armi Ti disintegro Rimasta con la coscia in aria Fantastico Grazie ragazzi ci è mancato davvero poco Io vendo rifornimenti in questa zona E posso procurarvi le armi E attrezzature migliori Grazie grazie Continua Pacco fucile a pompa Eh no grazie Perché ti puoi fottere 10 euro No grazie Torniamo all'insieme primaria Per continuare a liberare la zona Ricordati di migliorare periodicamente Il tuo fucile ad assalto Perfetto Allora Potenziamoci un po' il fucile ad assalto Va Ah per adesso devo seguire praticamente quello che dice lui Quindi giochiamo Andiamo Che è Ucciti otto nemici Quel nuovo zombie sembra quel sul punto di esplodere Pure Inizia Ma che adesso ti faccia esplodere Il detonatore Questo zombie esploderà Quando sarà nelle tue vicinanze Se verrà colpito nello stomaco Distruggi ordine tramite l'esplosione Pericolo imminente Se il detonatore esplode vicino alla tua posizione Morirai E ci credo Detonatore maledetto Aiuto Stammi lontano Stammi Che adesso ti colpisco la pancia Ti colpi Vieni qua Maledetto esplodi Esplodi Perfetto Perfetto Vieni qua piccolo Che adesso sei il mio obiettivo primario Vieni qua Che ti faccia esplodere Come se non ci fosse un domani Spengte Ma è fighissimo Ragazzi È un gioco veramente troppo divertente Abbiamo finito Già Cioè che quello è rimasto lì Che è successo Si è appizzato Non sapevo che il detonatore Si fosse ravvicinato così tanto al municipio Il virus si sta diffondendo più velocemente dal previsto Dobbiamo garantire l'incolumità dei superstiti Continua a liberare l'aria degli zombie Tocca in questo punto per continuare Ok Perfetto Mi sei completata Incastiamo questi soldini E per oggi direi che basta così ragazzi Quindi adesso vi lasciate un bel like Se volete altri video Su questo bellissimo Killshot Virus Vi rivolgo da potete seguire Il link sulla pagina Facebook Twitter Se come tutti i dati soldi Il link in descrizione Iscrivetevi al canale E per oggi è tutto Al prossimo video Oggi torniamo su Robbery Bob 2 Per ritornare sulla playa La titante Benti Che l'ultima volta Non sono riuscito a passare Forza abbiamo finito Praticamente la playa La titante Benti Dove siamo adesso? Dove siamo?